Enroll vuol dire letteralmente arruolare ed HD sta per malattia di Huntington. Enroll HD si rivolge a chiunque condivida il problema della malattia di Huntington. Il progetto Enroll consiste in una vasta raccolta di informazioni che avviene tramite incontri annuali. È il più grande progetto internazionale di ricerca osservazionale su un'unica malattia. Può prendere parte al programma Enroll, ogni persona con malattia di Huntington, persone a rischio che non conoscono il proprio status genetico e familiari non consanguinei. Da quando esiste Enroll HD è sostanzialmente variata la nostra conoscenza della malattia di Huntington. Si è osservato un progressivo trasferimento di conoscenze dal laboratorio di ricerca alla realtà della malattia per i pazienti. Enroll è inoltre un canale di accesso alle terapie farmacologiche e sperimentali. Partecipate ad Enroll, aiutateci a migliorare la conoscenza sulla malattia di Huntington. Dedicate un paio d'ore annualmente del vostro tempo alla ricerca scientifica. Ad oggi più di mille persone hanno scelto di partecipare al programma Enroll con la Fondazione Lear. Ogni visita Enroll prevede un rimborso spese per sostenere il viaggio per raggiungere il vostro centro Enroll di riferimento. Basta davvero poco per fare tanto? Fallo anche tu. Contattaci per partecipare. Grazie. 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 Grazie.